cavalluccio marino il maschio del cavalluccio marino può fare figli il cavalluccio marino è un tipo di pesce con la pelle dura il cavalluccio marino nuota tenendo il corpo in posizione verticale granchio il granchio ha molte zampe e due kele il granchio è un animale divertente da guardare perché è molto veloce il granchio ha una corazza dura delfino il delfino è un animale molto intelligente e divertente che vive nel mare il delfino può saltare fuori dal mare il delfino nuota molto velocemente pesce spada il pesce spada è un pesce grande con una grande punta sulla testa il pesce spada perde tutti i denti da adulto il pesce spada usa la sua punta per cacciare nel mare stella marina la stella marina è un animale strano che vive nel mare ed è a forma di stella la stella marina può avere colori diversi la stella marina sembra una pianta ma è un animale pesce palla il pesce palla si gonfia bevendo l'acqua o l'aria quando viene attaccato il pesce palla è blu il pesce palla è molto tossico per quasi tutti gli animali che lo mangiano polpo il polpo è un animale che vive nel mare e ha otto braccia il polpo ha una pelle molto appiccicosa il polpo ha tre cuori pastinaca la pastinaca è un pesce molto grande e piatto la pastinaca di solito vive vicino alla costa la pastinaca tende a confondersi con la sabbia squalo lo squalo è un animale molto grande e forte che vive nel mare lo squalo ha una penna sulla parte superiore lo squalo ha molti denti lunghi affilati in bocca tartaruga marina la tartaruga marina ha la corazza dura la tartaruga marina nuota con le pinne le tartarughe marine possono diventare molto grandi la tartaruga marina ha la corazza dura la tartaruga marina nuota con le pinne le tartarughe marine possono diventare molto grandi lì